se volete contestare le pagelle fatelo pure perché Gagliano è con noi in studio mi sembra un po' generoso con Escalante, Escalante ha fatto un'altra cosa buona il cross del secondo gol, poi ha sbagliato tutti i passaggi che si possono sbagliare spessare una lancia a favore di Escalante che ieri replica Gagliano uno per volta scusa no 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 volevo solo dire una cosa che Escalante ieri aveva una responsabilità immensa giocava in un centrocampo praticamente inesistente o quasi con il giovanissimo Auger che ha fatto di più forza l'impossibile e lui aveva in mano le chiavi del centrocampo Almiron e lo stesso Rinaudo che sono i naturali poi giocatori di quel ruolo uno era al centro della difesa l'altro è infortunato quindi da un ragazzo di 20 anni dai una responsabilità di questa va anche in qualche modo supportato poi ci sono i big che hanno giocato e hanno preso brutti voti fra virgolette perché evidentemente dai big ci si aspetta qualcosa in più Nino Leonardo voleva dire qualcosa ma io invece si vinceva 3 a 1 con il Klopp che metteva dentro quella palla allora tutti questi 4 più 4 dell'Orlandi non l'avremmo letto guardi perché mi sembra la pagella del professore speriamo che me la cavo guardi ma guardati se sei andato su 3 a 1 non è così poteva dare e se era un giocatore di qualità e se era un giocatore di qualità invece di buttarla addosso tu hai mai visto una sorta di 7 metri e mezzo lui aveva un metro occupato e 6 metri e mezzo liberi eppure è riuscito a perdere però Mario una squadra che deve vincere il campionato deve lottare per i vertici sai cosa occorre quelle occasioni le deve concretizzare le deve portare a buon fine sai cosa occorre? occorre un altro di bala in che senso? occorre perché di bala è il maestro del kamasundra lui la mette sempre dentro le palle le mette sempre dentro siamo in fascia protetta siamo in fascia protetta siamo in fascia protetta nel senso là io avrei aumentato qualche voto per i giovani tipo Ger anche 6 e mezzo 7 e mezzo il terzino di quel ragazzo parisi gli avrei dato anche questo punto in più ai giovani bisogna parisi in occasione del pareggio del primo pareggio del Brescia commette un grosso errore perché si fa scappare Morosini e da là nasce poi il traversone che mette in difficoltà quell'uomo in aria da solo con 3 difensori schierati libero non sta né in cielo né in terra se qui c'è un mister scusa tutti i mister io dico quell'uomo solo 3 schierati in linea e quello solo in aria quello di piatto l'ha messa lì non deve essere mai lasciato solo i difensori di Catania non hanno le qualità non sanno marcare non sanno fare la diagonale non stanno dietro l'uomo allora scusa perché hai dato quaccia a quel difensore come si chiama a Sauro a Sauro a Sauro a Sauro a Sauro a Sauro io invece ne vorrei 100 di sti Sauro cioè del vecchio a Catania dicono i Sauro e a Catania ce l'abbiamo ma che sei alla pescheria ma se hai toccato a giocare ma se hai toccato a giocare ma se hai toccato a giocare a pescheria ce l'abbia mai non abbia visto la partita io ti gestifico Leonardo guarda che tu quando giocavi ero un killer a tutti gli effetti dai io ero uno che non mollava mai lui tu dirgli a Beccalossi Antonino Novellino che cosa hanno fatto con la roba si giocava un primo Mancino Mancino stava festeggiando a Champagne ancora il fatto che si giocava nella centra a Basile con questa zona minata con questa zona archeologica è scasso Sauro io ne voglio 100 ma che si ero dei delinquenti in campo ma è scasso stisse ma questo ma come si vede mi fanno applausi in campo uno deve portare beneficio alla propria squadra deve fare spellere gli altri come facevo io non che si fanno spellere loro perfetto per quelle reazioni ci diamo misteria grazie a tutti grazie a tutti